ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi unboxing di queste nuove cuffie della sound pits free 2 classic veramente molto bella la custodia andiamo ad aprire insieme la custodia e andiamo a scoprire cosa c'è all'interno all'interno troviamo le cuffie questa è la custodia delle cuffie molto carine in iar abbiamo anche questo materiale molto resistente molto buono abbiamo usb tipo c all'interno di queste cuffie poi all'interno troviamo il manuale delle istruzioni questo è il manuale in qualsiasi lingua se volete sapere come funziona e queste sono il filo per il cavetto usb tipo c hanno la certificazione ip x5 io l'ho provate sono ottime poi nella recensione completa vi dirò sicuramente su queste belle queste cuffie di fascia media il prezzo ve lo dirò nella recensione completa su queste cuffie molto ma molto belle si ricaricano in questo modo usate ricarica ecco qua questa è la basetta che sta dicendo che le cuffie stanno in questo momento caricando touch hai la possibilità di mettere un solo tocco in fe in pausa con due tocchi anche di mettere la musica basso volume e con tre tocchi di cambiare anche musica molto utile queste si chiamano della sound pit free 2 classic normali a un prezzo molto contenuto che vi dirò nella recensione completa solamente sono delle cuffie da acquistare assolutamente vediamo nella recensione completa e all'interno della custodia ci sono pochi accessori ma molto molto utili le cuffie già l'ho provate sono veramente molto molto comode anche per strada da utilizzare poi nella recensione completa vi dirò tutto con questo è tutto da technology g ciao ragazzi